Un caso esplode nel pomeriggio su Facebook. Una donna di 35 anni scrive due post e denuncia una violenza. Sono stata stuprata, ma non me la sono sentita da sola di andare dai carabinieri e poi in ospedale. Secondo il racconto della 35enne, la vicenda si snoda in via San Pasquale, la donna di origini siciliane. Ospite di una casa scende in strada per buttare la spazzatura, mentre rientra tre giovani si infilano nel portone e l'aggrediscono. Mi hanno tappato la bocca e spinto in un angolo. La donna racconta sul social di quel palazzo di quell'androne che è grande e buio e pieno di anfratti. Hanno cominciato a toccarmi, mi tenevano ferma in tre. In un primo post la 35enne aveva raccontato di essere stata salvata dallo stupro da un ragazzo, ma dopo ho visto le numerose sollecitazioni giunte nei commenti a denunciare l'accaduto, ha invece rettificato affermando di essere stata violentata. Il palazzo di Sei Piani ha quattro anfratti, un inquilino dice di aver sentito delle urla dopo la mezzanotte di lunedì. L'amministratore del condominio invece racconta che nessuna persona con il nome della donna siciliana che ha denunciato quanto accaduto sul social risulta ufficialmente essere stata ospitata nelle case. La denuncia della donna è stata rilanciata in serata dalla rete Non Una Di Meno, che ha offerto supporto psicologico e legale. Crediamo assolutamente che lo stupro sia avvenuto, dice Francesca De Rosa dell'associazione. Riteniamo che non debba esserci silenzio su questa storia. La donna è una mamma e una moglie e ha voluto parlare della vicenda con i familiari prima di denunciare.